Quando qualcuno ti dice che Dio ti benedica, non desidera solo il meglio per te, ma anche per se stesso. Quando qualcuno ti benedice, attira la protezione di Dio su te. L'effetto della benedizione è moltiplicato, poiché è dato da Dio ai Suoi figli. Chi dona la benedizione invoca il sostegno costante di Dio per il benessere della persona, fa nasce riconoscenza. Conferisce prosperità e felicità alla persona che la riceve. Per questo oggi io chiedo che Dio ti benedica e ti benedica con tutto il cuore come Egli ci ha amato. Distribuisci benedizioni a tutti, non solo a parole, ma con azioni. Torneranno a te quando meno te lo aspetti. Un abbraccio e che Dio ti benedica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.